Il gruppo della Lega Nord e del Movimento Noi con Salvini, Sapato, sarà in piazza al Circo Massimo accanto agli organizzatori del Family Day. Noi siamo convinti che la famiglia sia una, quella formata da mamma, papà e che possa avere il dono dei figli, così come è stabilito dalla nostra Costituzione, dall'articolo 29. Diciamo assolutamente no alle adozioni gay e no all'equiparazione con i matrimoni tra eterosessuali. In tal senso riteniamo scandalosa la scesa in campo della Presidente Boldrini che in quanto Presidente della Camera dovrebbe tenere un atteggiamento terzo e non entrare a gamba tesa in un argomento molto delicato, tra l'altro di iniziativa parlamentare e sul quale è opportuna la massima riflessione. Noi ci auguriamo che al Senato vengano stralciati quelli che sono gli emendamenti che aprono appunto alle adozioni e all'equiparazione del matrimonio.